Ragazzi prima di iniziare volevo semplicemente ringraziare i due compagni fidati che mi hanno aiutato nella realizzazione dell'easter egg ovvero il buon Puffo Tosa Erba e il caro Macchiolino Pane e Vino quindi grazie ragazzi per il vostro sostegno Hello guys, I am Phil ed eccoci tornati con un video diverso dal solito dove andremo ad analizzare passo passo, step by step tutti i passaggi fondamentali per completare l'easter egg di Diamond Skin del nuovissimo Call of Duty Cold War integrando anche alcuni consigli utili detto questo se il video vi è stato d'aiuto e se vi va lasciatemi un bel like ed iscrivetevi al canale vi ricordo anche di dare un'occhiata ai link in descrizione, mi raccomando eccoci quindi ragazzuoli pronti a questa analisi prima però di passare all'easter egg vero e proprio vi volevo dare alcuni consigli da tenere a mente prima di iniziare la partita consiglio numero 1 scegliete una classe con una buona arma di partenza valutando l'efficacia e la quantità di munizioni in modo tale da permettervi, almeno nelle prime fasi, di utilizzare i punti guadagnati solo ed esclusivamente per aprire i vari passaggi senza doverli usare quindi per armi o per altri acquisti in game a mio giudizio l'MP5 risulta un'ottima scelta data l'elevata quantità di munizioni e la versatilità dell'arma volendo, dato che il Gallo 12 è un'arma fondamentale per la vostra build finale potete optare per questa variante risparmiando così 2000 punti di costo per comprare l'arma a muro riducendo però drasticamente il numero di munizioni consiglio numero 2 se siete in gruppo per risparmiare punti e soprattutto round quindi per massimizzare i vostri guadagni nelle primissime fasi quindi round 2 o 3 con un numero esiguo di nemici uccidete gli zombie 1 alla volta raggiungete la quota necessaria ad aprire il passaggio e lasciate gli zombie al vostro compagno in modo tale appunto da massimizzare i punti mantenendo i round relativamente bassi in particolar modo basatevi sul fatto che fino all'attivazione dell'energia avrete in un momento dei prezzi delle porte da aprire che saliranno quindi a partire da 750 poi 1000, 1250, 1500, 1750 ed infine 2000 consiglio numero 3 fate gli step a fine round in modo tale da non avere troppi zombie intorno soprattutto se siete in gruppo mentre qualcuno fa gli step gli altri tengono in vita gli ultimi zombie per fare questo stategli vicini e cercate di farvi colpire ogni tanto per evitare appunto che possano morire per despawn quarto consiglio è quello di equipaggiare il potenziamento aura curativa il quinto consiglio invece che mi sento di darvi è una possibile build da raggiungere appunto per la boss fight che comprende la rip showcase che sarebbe la wonder weapon appunto di Dima skin con ovviamente uno dei quattro potenziamenti il gallo 12 potenziato almeno a livello 2 juggernaug e quick revive potenziati il più possibile tramite i cristalli nel pre partita stamina, speed cola, scimmiette e il livello più alto possibile di corazze e potenzialmente armi che potete ottenere dall'automa in game in modo tale da rendere la boss fight relativamente semplice fatte queste premesse buttiamoci nell'analisi dell'easter egg che se avrete fortuna soprattutto nel trovare le rip showcase potrete tranquillamente completare entro il round 20-25 con una tempistica di circa un'oretta e mezza se non di meno passo numero 1 corrente e paga punch il primo step è estremamente semplice in quanto il gioco vi guida nella sua realizzazione dovremo infatti attivare la corrente e costruire il paga punch per la corrente basterà seguire le frecce viola presenti sulle varie pareti della mappa basandoci sul consiglio numero 2 gestite gli zombie e i punti fino ad arrivare appunto alla zona dell'acceleratore di particelle dove in seguito all'attivazione dell'energia e dei due terminali si attiverà un'anomalia con la quale interagire l'anomalia è una sorta di portale che conduce ad una variante oscura della mappa all'interno della quale si possono raccogliere oggetti o interagire con ulteriori anomalie questi portali ovviamente hanno una durata per cui vi dovete muovere rapidamente al loro interno o sarete costretti a tornarci conservando però ovviamente i progressi ottenuti nella sessione di mondo oscuro precedente attenzione prima di attivare l'anomalia assicuratevi che almeno uno di voi abbia 500 punti in quanto una volta nel mondo oscuro dovrà raggiungere un flusso di teletrasporto che costa appunto 500 punti e che sulla mappa è indicato con un segnalino obiettivo lo troverete nella zona dello stagno e vi teletrasporterà in una zona di mappa dove dovrete raccogliere il pezzo per la costruzione del pack a punch a quel punto tornate nella zona dell'acceleratore e dal centro della stanza potrete montare appunto il vostro pack a punch se siete rapidi riuscite a fare il tutto in un'unica sessione di mondo oscuro altrimenti avrete bisogno mentre di un secondo giro fatto questo il primo step è concluso passo numero 2 ottenere le rip showcase lo step numero 2 non è un vero e proprio step nel senso che è un passaggio fondamentale per l'easter egg ma che potete portare avanti con calma fino allo step numero 6 il mio consiglio ovviamente in questo caso è di farlo in concomitanza del terzo step per velocizzare le cose in ogni caso questo processo sarà fondamentale per l'ottenimento della wonder weapon di Dimaskin appunto la rip showcase che è un'arma che si ricarica assorbendo gli zombie e per la quale dovremo ottenere 4 potenziamenti che andremo a vedere fra poco per ottenere quest'arma speciale sono possibili 3 metodi in modo tale che tutti i giocatori la possano ottenere il primo metodo è il più casuale e di conseguenza dispendioso ovvero la cassa di armi casuali il secondo invece è anch'esso casuale ma in questo caso meno dispendioso a livello di punti infatti nel corridoio che precede la stanza dell'infermeria e dell'armeria in fondo è un terminale con delle sfide attivarle richiede una spesa che da 500 tende ad aumentare per cui la spesa è tanto più bassa quanto più voi siete bravi a completare queste sfide e anche qui in base ad un po' di fortuna consiglio prima di cimentarvi in queste sfide aprite tutta la mappa in quanto alcune di queste richiedono di essere eseguite in zone specifiche in ogni caso man mano che completerete queste challenge otterrete delle ricompense di gradi diversi per un totale di 4 comune, raro, epico e leggendario ogni volta che completerete una sfida a seconda della vostra capacità sbloccherete un premio che parte appunto dal grado comune e che può aumentare fino al leggendario continuando a fare le sfide quindi mi raccomando riscuotete il premio solo quando vi indica il grado leggendario a quel punto la certezza non è assoluta ma con buona probabilità al primo barra secondo colpo dovreste droppare le rip showcase tranne nel nostro caso che siamo arrivati addirittura anche al sesto tentativo terzo metodo invece è l'unico sicuro al 100% e per farlo dovrete sfruttare i megaton ovvero i giganti verdi che sparano delle sfere acide e questo è un fattore fondamentale che sfrutteremo per portarci avanti anche con i potenziamenti dell'arma stessa infatti prima di ucciderlo e farlo dividere nei due blaster megaton dovremo fargli sparare una di quelle sfere su una spora presente su un albero tra la zona dello schianto e lo stagno per capire se il passaggio è completo in questo caso la spora da spenta diventerà viola e fosforescente non è fondamentale farlo ora ma se lo fate risparmierete tempo per i passaggi successivi tornando all'ottenimento della rip showcase dopo aver attivato la spora se ci siete riusciti uccidendo il megaton come dicevamo si dividerà in due ulteriori mini boss i blaster megaton uccidendoli infatti uno dei due dropperà una scheda che riconoscerete in quanto presenta contorni gialli e che sarà fondamentale per i passaggi successivi cercate di uccidere i due gemellini a distanza ravvicinati inteso come distanza spaziale in quanto sembrerebbe che la scheda possa desponare dopo qualche secondo quindi dovete essere rapidi nella sua raccolta raccolta questa scheda recatevi all'armeria qui troverete l'armadietto delle armi attraverso il quale appunto grazie alla tester recupererete il telecomando RIP fatto ciò recatevi all'avamposto Omega per chi preferisce la zona di Nackderuntoten al piano inferiore vicino alle scale troverete una festura nel muro con la quale interagire determinando l'attivazione del RIP questa sorta di aspiratore zombie fondamentale per ottenere l'arma vi basterà a questo punto accumulare gli zombie e farli passare davanti al flusso d'aria due precisazioni da fare servono all'incirca 20-30 zombie e soprattutto questo macchinario tende a surriscaldarsi per cui dopo un periodo di attivazione si spegnerà nessun problema aspettate qualche secondo tornate alla fessura e riattivate l'apparecchio gli zombie già assorbiti ovviamente in questo caso non vengono resettati finito ovviamente il processo interagite di nuovo con la fessura che aprirà la porta di questo macchinario e troverete ad aspettarvi la carissima RIP ottenuta la Wonder Weapon e consiglio a tutti i membri di ottenerla soprattutto in vista della boss fight introduciamo i potenziamenti come dicevamo sono 4 ghiaccio acido elettrico e fuoco i primi due quindi ghiaccio e acido possiamo ottenerli già a partire da questo punto fuoco ed elettro invece solo dopo aver completato lo step 4 quindi andando per gradi affrontiamo i primi due e poi ritorneremo a parlare dei rimanenti quando di dovere per quanto riguarda il potenziamento acido è uno dei più forti a mio giudizio e per ottenerlo il processo è piuttosto semplice recatevi nella zona di Nakt deruntoten piano superiore nell'angolo presente in video assorbite la bombola contornata di giallo premendo per chi gioca da pc tasto destro del mouse avendo però in questo caso la rip non completamente carica quindi nel caso in cui avete la rip carica sparate un colpo e poi aspirate in questo modo attrarrete la bombola vicino a voi e potrete raccoglierla portatela quindi all'armeria dove in fondo alla stanza troverete un macchinario per ricaricarla per farlo però avrete bisogno di un flaggello ovvero i cani che spawnano durante i round il consiglio quindi è di aspettare in quella stanza finché quest'ultimo o tramite il round specifico o durante i round classici non spawni uccidetelo di fronte al macchinario che assorbirà quindi il suo acido e una volta riempita la bombola raccoglietela tornate ora alla zona dello schianto dove trovate il juggernaug per intenderci e sul muro di fronte all'aereo caduto troverete una cassa di potenziamento armi interagite con essa in modo tale da lasciare la bombola colpite quest'ultimo in modo tale che esploda ed avete ottenuto il primo potenziamento piccolo accorgimento non equipaggiate i potenziamenti fin da subito in quanto rimarranno lì finché non li prendete per cui aspettate fino allo step 6 soprattutto se siete meno di 4 e poi capirete il perché per quanto riguarda il potenziamento del ghiaccio invece abbiamo bisogno di attivare la famosa spora quindi se lo avete già fatto andiamo avanti con i passaggi altrimenti aspettate il megaton attivate la spora e proseguite per procedere quindi recatevi nuovamente al piano superiore di Nakt derun Toten e sparando ad una scatola lì presente questa vi dropperà una fiala raccoglietela e portatela sotto la spora attiva attendete qualche secondo in modo tale che si riempia e raccoglietela non è necessario uccidere zombie nelle sue vicinanze quindi basta semplicemente aspettare a questo punto la potrete portare ovviamente una volta piena all'infermeria e interagire con la cassa di potenziamento armi in questo caso avrete ottenuto il potere del ghiaccio possiamo quindi dire di aver concluso questo nostro secondo semi step e gli altri due potenziamenti li vedremo invece più avanti successivamente allo step 4 passo 3 come vi dicevo potete eseguirlo in concomitanza del 2 per guadagnare tempo in cosa consiste? in realtà è molto semplice dovrete costruire uno strumento particolare l'eteroscopio appunto raccogliendo i pezzi nel mondo scuro per cui seguendo l'indicatore dell'obiettivo sulla minimappa attivate l'anomalia entrate nel mondo scuro e cercate i pezzi in totale sono 3 e hanno un ordine di spawn sequenziale per cui raccogliere il primo fa spawnare il secondo e il secondo fa spawnare il terzo i tre punti sono primo stanza dell'acceleratore di particelle procedendo lungo la passerella che porta all'automati potenziamento dovreste vederlo in lontananza con dei contorni gialli di solito è il primo a comparire dato che sarete già lì dopo aver attivato l'anomalia secondo punto la spawn room sotto le scale crollate il terzo invece zona di schianto sopra l'aereo come vi dicevo lo spawn segue il principio di conseguenzialità per cui se non trovate un pezzo nel punto indicato probabilmente dovrete prima raccogliere gli altri anche qui se siete rapidi riuscirete a prendere tutto in un giro unico di mondo scuro altrimenti attendete la ricomparsa dell'anomalia e raccogliete i pezzi mancanti di solito è necessario far passare il round per far ricomparire il portale ma in qualche caso è successo di averne due nello stesso round forse un bug non lo sappiamo una volta raccolti i pezzi costruite l'eteroscopio su un tavolo da lavoro io utilizzo quello nella stanza dell'acceleratore e avrete concluso anche il terzo step passo 4 l'anomalia di Vogel questo step prevede l'interazione appunto con questo dottor Vogel e per farlo bisogna recarsi nuovamente all'infermeria dove si sarà attivata un'anomalia interagire con questa e una volta nel mondo scuro al piano superiore dell'infermeria dentro una stanza troveremo un computer e di fianco un diario raccogliamo il diario e a questo punto cerchiamo le tre anomalie che compariranno in sequenza nei seguenti luoghi infermeria piano inferiore zona del terminale sfide dietro a una delle colonne per le ricompense sul lato destro piano più basso nella stanza dell'acceleratore trovate le anomalie attivatele e consegnate ogni volta al dottor Vogel il diario che avete raccolto o non partirà il dialogo anche qui se siete rapidi e terminati in un giro di mondo scuro altrimenti riattivate l'anomalia e continuate da dove avete lasciato una volta tornati nel mondo normale recatevi nuovamente nella stanza del computer e interagite con quest'ultimo inserendo la password che avete ottenuto grazie appunto al dialogo col dottor Vogel a questo punto quindi compariranno nuovi spot per ulteriori anomalie che oltre ad indicare il completamento dello step vi permetterà di effettuare gli ultimi due potenziamenti per la rip showcase passo 5 potenziamenti rimanenti se infatti avete già ottenuto i primi due potenziamenti possiamo passare direttamente ai successivi molto importante in questo caso comunque è prendere l'anomalia giusta a seconda del potenziamento che si vuole seguire in quanto in questo caso troveremo due anomalie attivabili contemporaneamente ma ognuna è specifica per un determinato elemento di potenziamento per quanto riguarda il potenziamento del fuoco troveremo un globo scuro nella zona del quick revive attivatelo e una volta nel mondo scuro recatevi alla zona di schianto dove appunto si trova il juggernog dove la cabina di pilotaggio dell'aereo in questo caso inizierà a fluttuare sotto questa troverete una scatola aperta o comunque da aprire con un colpo dalla quale raccogliere un fusibile portatelo quindi all'armeria inserendolo nel macchinario di fronte il death shot dei kiri e tornati nel mondo normale nella zona dello stagno sopra il camion lì presente troverete la scatola per il potenziamento del fuoco per quanto riguarda quello elettrico invece in questo caso dobbiamo attivare il globo scuro presente nella stanza dell'acceleratore di particelle una volta nel mondo scuro dovrete cercare tre cristalli gialle da assorbire con la wonder weapon vi ricordo nuovamente che per farlo dovrete avere la rip showcase non completamente carica altrimenti il tasto destro non permetterà l'assorbimento in ogni caso avrete aspirato correttamente il cristallo quando la canna dell'arma risulterà illuminata di giallo gli spot di spawn in questo caso sono tre sopra un act deruntoten alla destra dell'entrata del bunker nella zona del juggernog alla destra dell'entrata del bunker nella zona del quick revive potete aspirare un solo cristallo per volta e una volta assorbito dovrete tornare nella stanza dell'acceleratore e al piano inferiore nell'angolo a destra sparare sulla cassa di potenziamento armi dovrete sparare molto da vicino e per essere proprio sicuri sparare mirando ai tre contenitori in vetro presenti sulla scatola altrimenti il cristallo potrebbe andare perso e dovrete raccoglierlo nuovamente una volta fatto per tutti e tre capirete appunto se avete svolto correttamente il tutto se vedrete all'interno dei tre contenitori presenti sulla cassa i tre cristalli al loro interno fatto questo avrete ottenuto anche l'ultimo potenziamento in questo caso se siete soli avrete bisogno di almeno due giri di anomalia mentre se siete in gruppo uno dovrebbe bastare passo 6 la chiave inglese ottenuti i potenziamenti delle wonder weapon infatti potrete finalmente passare allo step successivo nella stanza dell'infermeria infatti al centro in alto troverete un cilindro con quattro bracci in corrispondenza del giusto colore in questo caso le coppie sono blu per il potenziamento del ghiaccio verde per l'acido rosso per il fuoco giallo per l'elettrico dovrete sparare appunto con le wonder weapon potenziate a seconda del numero dei giocatori ovviamente potreste essere costretti a cambiare il potenziamento per cui vi consiglio di tenervi per ultimo quello che volete usare durante la boss fight vi dico questo proprio perché non abbiamo sperimentato a cambiare il potenziamento tornando al potenziamento precedentemente utilizzato per cui se siete meno di 4 qualche potenziamento potrebbe andare perso a questo punto una volta sparato il passaggio è corretto se in seguito al colpo i bracci si alzano fatto questo attivate il globo che compare in infermeria e attivate il globo luminoso al piano superiore che farà partire una sequenza dialogata finita quest'ultima verrete teletrasportati nuovamente nel mondo normale e potrete raccogliere la chiave inglese che spawnerà dove parlavano in precedenza i fantasmi passo 7 palla di cannone per questo step è obbligatorio avere delle semtanks per agevolare il processo potete o craftarle voi stessi ad uno dei tavoli da lavoro oppure come drop degli zombie in ogni caso una volta raccolta la chiave inglese recatevi allo spawn e avvicinatevi al cararmato lì presente interagite con quest'ultimo finché non uscirà uno zombie uccidetelo e lanciate una granata a livello del portellone che ora risulterà aperto se avete fatto tutto correttamente il canone sparerà una palla dorata che troverete nei pressi della zona dello schianto appena usciti dall'edificio raccoglietelo e portatelo all'infermeria ma attenzione in questo passaggio non potrete usare armi quindi fatevi coprire o comunque fatelo a fine round con pochi zombie in quanto spawneranno anche diversi cani nel momento della raccolta all'infermeria lasciate poi la palla nel macchinario frontale a dove avete raccolto la chiave inglese e il gioco è fatto passo 8 megaton a questo punto per proseguire con l'easter egg avrete bisogno di un megaton per l'esattezza dei due megaton blaster che si formano dopo l'uccisione di quello più grande dovrete infatti portare i due gemellini all'infermeria e farli assorbire uno ad uno dal cilindro sospeso a cui abbiamo sparato nello step 6 facendoli semplicemente passare al di sotto di questo macchinario uno alla volta il mio consiglio è di farlo a fine round uccidendo il megaton direttamente in infermeria con le rip showcase e poi far assorbire i due mini boss in modo tale da non doverli portare in giro per la mappa a questo punto fate molta attenzione perché tutti e ripeto tutti i giocatori in game dovranno recarsi nell'infermeria dove c'è il computer ed attivarlo questo farà partire una sequenza animata che confermerà il completamento dello step in questo caso un piccolo consiglio che mi sento di darvi è durante il filmato le porte dell'infermeria si chiuderanno e nel nostro caso ma probabilmente anche negli altri casi avendo pochi zombie questi sono morti facendo quindi passare il round siccome dovreste essere intorno al 17esimo 20esimo round riaperte le porte quindi non seguite il tizio del filmato ma tornate all'aperto in modo tale da gestire l'orda zombie in tranquillità proprio come abbiamo fatto noi evitando quindi di andare a terra e di compromettere la riuscita dell'easter egg passo 9 foto di Orlov attenzione questo passaggio infatti vi porterà alla boss fight quindi equipaggiatevi al meglio in vista dello scontro e poi eseguite lo step se avete eseguito tutto correttamente infatti spunterà un globo scuro al piano inferiore di Nakt Deruntoten attivatelo e nel mondo scuro recatevi nella prima stanza che incontrate dopo lo spawn all'angolo troverete un globo luminoso interagite con quest'ultimo e questo farà apparire appunto il dialogo con Orlov una volta finito verrete riportati nel mondo normale e troverete una foto una volta raccolta verrete teletrasportati automaticamente alla boss fight in questo caso alcuni hanno riportato un bug per il quale la foto non viene droppata niente panico perché nulla è perso fate infatti passare il round effettuate nuovamente i passaggi di questo step e la foto dovrebbe apparire come di dovere passo 10 boss fight qui non c'è molto da dire dovrete semplicemente menare le mani infatti il caro Orlov dovrà riparare alcuni macchinari e voi dovrete proteggerlo la battaglia se siete ben equipaggiati è relativamente semplice infatti gli zombie tenderanno a bersagliare Orlov per cui voi macinate curandovi con l'aura curativa e per le munizioni di solito lo spawn del perk è piuttosto frequente in ogni caso nella stanza dell'acceleratore avete la cassa per le munizioni per cui il mio consiglio è tenetevi qualche punticino di scorta nel caso in cui doveste finire le munizioni un consiglio che mi sento di darvi per la boss fight per quanto la rip showcase elettrica sia la più forte quella acida in questo caso è estremamente utile perché permette di creare una nube tossica che genera danni nel tempo che sparandola vicino a Orlov genererà quindi una sorta di muro difensivo estremamente efficace contro gli zombie soprattutto perché lui non prende danni ovviamente dai nostri attacchi completata quindi la riparazione che potrete tenere sott'occhio grazie ad una barra a schermo siete pronti per l'estrazione passo 11 l'estrazione una volta riparato il tutto infatti ci sarà un dialogo che annuncia l'arrivo dell'elicottero a questo punto quindi si deve solo correre ma non è come passeggiare su un prato dovrete infatti evitare zombie cani megaton e soprattutto alcuni fulmini azzurri che sponeranno in mezzo alla mappa e che se toccati uccidono all'istante se posso consigliarvi seguite il passaggio che abbiamo utilizzato noi ovvero infermeria tunnel del bunker e poi dritti allo stagno per l'estrazione non serve che arriviate tutti allo stagno infatti come vedrete io ero ancora al limite del tunnel quando è partita la cutscene dell'estrazione per cui basta che uno di voi interagisca con l'elicottero e il gioco è fatto beh che dire se siete arrivati fino a questo punto complimenti perché avete completato l'ister egg fatemi quindi sapere nei commenti se il video vi è stato aiuto e a che round avete completato l'ister egg io passo e chiudo hell psy e kangaroo e Grazie a tutti.